I giudici della seconda sezione penale della Corte di Cassazione, accogliendo la richiesta del procuratore generale, hanno respinto il ricorso che la Procura di Palermo aveva presentato contro il proscioglimento dell'ex governatore Salvatore Cuffaro, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa. Cuffaro, che si trova in carcere a Rebibbia per scontare una condanna definitiva a sette anni nell'ambito del processo sulle talpe alla DDA, è stato prosciolto dall'ulteriore accusa per il principio del nebis in idem per cui un imputato non può essere processato due volte per gli stessi fatti.